Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Caro bollette, Seri obbliga Aset a rateizzare gli importi 5 Stelle chiedono di sospendere la riscossione La tua Fano parteciperà all'elezione di maggio e annuncia il ritorno sulla scena di due politici di razza Rossi e Severi Pubblico delle grandi occasioni per la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmi Cappesero ottimi risultati per le azzurre Dopo il telegiornale, in diretta, su Fano TV la prima puntata di Occhio al Voto per conoscere programmi e protagonisti delle prossime elezioni di maggio Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia su Fano TV, canale 17 Allora avete sentito dal sommario Massimo Seri il sindaco uscente di Fano con una specie di moto proprio un'iniziativa del tutto personale ha chiesto, obbligato, ad Aset a rateizzare gli importi delle bollette cosiddette dell'acqua insomma, quelle di importi elevati ma non solo questo allora per capirne un po' di più vediamo il servizio che è preparato per noi Dino Balestra Sulle bollette dell'acqua con gli importi gonfiati dalla nuova tariffazione e dai conguagli retroattivi imposti dal legislatore Aset ci ha messo la faccia ma il sindaco ci mette una bella pezza Seri sulla questione entra a gamba tesa dopo che l'efficienza e la precisione dell'azienda rischiano a poche settimane dal voto di trasformarsi in un boomerang elettorale che si stampa dritto in faccia al candidato sindaco in corsa per il secondo mandato il conguaglio retroattivo dice chiaramente Seri è una vergogna bella e buona fermo restando la validità del provvedimento per una questione di equità tra fasce della popolazione e rispetto delle risorse idriche dice un contrariato sindaco chiedere il conguaglio di tutto il 2018 in un'unica bolletta è una vera porcheria per questo come la legge mi consente di fare ho chiesto ad Aset d'Imperio di adottare contromisure per venire incontro a quella parte di popolazione mono e bifamiliare residente spesso anziani pensionati o vedovi sui quali è ricaduto quasi totalmente il peso di questa nuova disposizione a livello nazionale in realtà le bollette che sono arrivate non sono l'aumento dell'acqua sono il conguaglio che hanno inciso in modo molto pesante dal primo gennaio 2018 che è una scelta dell'autorità nazionale col mio intervento ho dato disposizione ad Aset sulla quale devo dire già ci stavano ragionando onestamente primo che verrà viene procrastinata la scadenza per tutti i nuclei da 1 e 2 persone dal 30 maggio due direttizzare fino a 6 rate il conguaglio senza alcuna spesa senza alcun interesse inoltre verrà istituita un ulteriore fondo oltre a quelli che è Aset un fondo di 50.000 euro per andare ad aiutare coloro che hanno avuto un conguaglio molto alto ovviamente basandosi anche su quella che è l'ISEE e le situazioni particolari fino a un contributo di 100 euro per bolletta Seri nell'occasione respinge al mittente anche le considerazioni dell'opposizione che su questo boccone avvelenato ci si è tuffata a capofitto e che hanno puntato il dito anche sui rincari dovuti agli investimenti riversati in bolletta ma che ammontano dice il sindaco confermando il dato presentato da Aset solo per il 3,5% su base annua quindi calcolando una media di 400 euro a bolletta di spesa appena 13 euro ben altra cosa rispetto agli importi arrivati in questi giorni dovuti esclusivamente quindi al conguaglio retroattivo gli uffici Aset pertanto restano a disposizione di quanti a partire da domani vorranno chiarimenti su come usufruire di queste nuove agevolazioni create ad hoc per questa occasione e già l'opposizione l'opposizione fanese ci va a nozze su questo boccone avvelenato come avete sentito poco fa nel servizio e oggi a prendere la parola sono stati i 5 stelle che hanno chiaramente dato e riversato tutta la colpa di questo aumento delle bollette al sindaco uscente proprio Massimo Seri purtroppo con la questione del caro bollette si è evidenziata una situazione poco piacevole da una parte abbiamo Aset che ha scaricato tutta la responsabilità su Arera e dall'altra invece abbiamo il sindaco Seri che per giorni è stato in silenzio e oggi finalmente ha parlato del caso mettendoci la faccia solo che le soluzioni che ha trovato secondo noi sono troppo deboli infatti vorremmo chiedere a Aset di intervenire in maniera molto più decisa per risolvere questa questione innanzitutto sospendendo con un provvedimento straordinario il pagamento di queste bollette poi servirebbe che fossero rimodulate le tariffe e poi che fossero ratezzate in un anno e non in sei mesi come dice il sindaco il pagamento delle bollette tra l'altro abbiamo anche un'altra richiesta per il comune cioè che pubblicizzi ed informi la cittadinanza non solo sul fondo anticrisi che Aset si pare che implementerà ma anche quello predisposto da Rera proprio ultimamente per agevolare le famiglie con redditi bassi e chiamato bonus elettrico bonus gas e anche acqua per cercare di aiutare i nostri concittadini a vedere i loro diritti rispettati ho indetto una riunione pubblica che si terrà giovedì prossimo alle ore 21 allo spazio 5 stelle a cui ho invitato dei tecnici che ci spieghino bene che cosa è successo e soprattutto avanzino delle proposte per l'immediatezza della situazione quindi avrò con me e con noi se verrete mi auguro che lo farete Paolo Tamburini che fa parte del forum provinciale dei beni comuni ci sarà il commercialista Andrea Serafini e l'avvocato Andrea Giuliani e adesso la cronaca con l'incendio l'incendio che ha completamente distrutto due serre che contenevano oggetti di modernariato in via Gagarin a Pesaro c'è il sospetto del dolo dietro il devastante incendio che ha distrutto quello che un tempo era un vivaio il vivaio Pantanelli e che ora invece era sede di un deposito di modernariato a Pesaro i vigili del fuoco hanno trovato tracce di un liquido accelerante che avrebbe innescato probabilmente il rogo che poi ha sviluppato fiamme alte decine e decine di metri e un denso fumo ad andare a fuoco la scorsa notte in via Gagarin alle porte di Pesaro un paio di serre trasformate nel deposito le fiamme sulla cui origine pertanto stanno indagando i vigili del fuoco si sono propagate in fretta bruciando tutta la merce in legno e gli oggetti vari che riempivano i locali tutto materiale altamente infiammabile vestiti vintage mobili in legno oggetti in plastica vecchi scooter e suppellettili di vario genere sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con almeno cinque mezzi provenienti tutti da Pesaro l'incendio è stato domato solo all'alba tutto ciò che era all'interno però è andato distrutto sventato dai vigili del fuoco anche il rischio che l'incendio allargandosi arrivasse ai depositi di carburante della Fox che in linea d'aria distano solo poche decine di metri indagano i carabinieri su quanto avvenuto insieme ai tecnici dei vigili del fuoco il locale era stato dato incomodato ad uso ad un commerciante di oggetti d'antiquariato i danni sono ancora da quantificare ma vista la quantità e la tipologia degli oggetti sarebbero ingenti adesso ancora politica questa volta parliamo della Tua Fano la Tua Fano che ha deciso di scendere di nuovo in campo quindi di competere le prossime amministrative di maggio e ha annunciato anche il ritorno di due politici di razza per la complessità dei meccanismi di funzionamento della pubblica amministrazione la Tua Fano c'è alle prossime elezioni con il chiaro intento di riprendersi un ruolo da protagonista nella politica della città per fare questo i suoi componenti fanno leva a tutto l'orgoglio e alla volontà dei cittadini a rivestire il giusto ruolo di terza città delle marche e ad invertire la rotta imposta dall'amministrazione seri che la sta portando a diventare sempre di più un anonimo soborgo di Pesaro anche se i 25 candidati saranno presentati tra una settimana questo pomeriggio all'ufficializzazione della lista alla corsa elettorale si sono presentati già alcuni cavalli di razza assieme a debutanti assoluti primo fra tutti spica il nome e la presenza di colui che assieme alle segretarie Francesca Cecchini sarà il capolista ovvero Davide Rossi la Tua Fano sostiene la coalizione della centrodestra e è arrivata proprio a individuare come candidato sindaco Lucia Tarsi il motivo principale che la Tua Fano si ripresenta di nuovo alla tornata amministrativa 2019 è il fatto che Fano deve tornare ad essere terza città delle Marche Fano in questi cinque anni non è più la terza città delle Marche è diventato un quartiere di Pesaro e quindi l'entusiasmo che abbiamo è proprio di questo di rendere Fano di nuovo ad essere la città terza città delle Marche vedere Stefano Guzzi e Davide Rossi seduti allo stesso tavolo per chi ha vissuto tutto il pregresso del loro contrastato rapporto politico partito prima come anime fondatrici della lista e poi sfociato nelle aule di tribunale fa un certo effetto ma per loro la voglia di far risorgere Fano dalle sabbie mobili nelle quali il PD l'ha cacciata è più importante tanto da fumare assieme il calumet della pace e adesso parliamo invece dei cinque fanesi cinque atleti fanesi che saleranno sul tetto del mondo del Kung Fu in Cina per i mondiali 2019 tra poche ore spiccheranno il volo per la patria del loro sport il Kung Fu gli atleti fanesi della scuola di arti marziali Yanlong parteciperanno ai mondiali che si terranno questa settimana a Hong Kong con centinaia di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta per un'arte marziale antica di secoli quella dei monaci Shaolin certo sarà dura per i nostri magnifici cinque capitanati dal maestro Diego Rillo partecipante anche lui ai mondiali in una specialità ma ci metteranno sicuramente tutto l'impegno possibile per alcuni di loro non è la prima volta che gareggiano a livello mondiale come Antonio Pupillo già campione nel 2005 per la forma della lancia e lo stesso maestro ma per gli altri è un'emozione assoluta trovarsi a gareggiare a questi livelli come Luca Santini per la forma della sciabola o Angelo Ambrosini per lo stile dell'ubriaco o l'unica donna del gruppo Daniela Pozzi che gareggerà per la forma a mani nudi e della sciabola prima di imbarcarsi sul giambo che li porterà nella Repubblica Cinese però sabato scorso l'aeroclub fanese ha voluto tenerli a battesimo facendogli fare un sorvolo sulla città di Fano sotto gli occhi emozionati dei loro familiari siamo in partenza per una gara mondiale a Hong Kong partiremo martedì quindi andremo a gareggiare la fine settimana il 13 aprile per una gara importantissima che vede 6.000 presenze in gara principalmente i ragazzi faranno Kung Fu Shaolin quindi faranno un'attività di forma di Tao Lu e poi ci sarà anche una competizione tradizionale di lancia combattimento proprio con un'arma mentre Daniela la mia sinistra parteciperà negli stili del Tai Chi Chuan hanno ricevuto anche per l'occasione un'ambasciata da parte dell'amministrazione comunale di rappresentare la città di Fano portandosi in valigia una statuetta della Dea della Fortuna da donare all'organizzazione dei mondiali oltre che al tricolore autografato dai piloti della pattuglia come elemento patriottico da onorare e sfoggiare in occasione della sfilata e dai mondiali di Kung Fu a quelli sempre mondiali si tratta di ginnastica ritmica che si sono appena conclusi a Pesaro Un pubblico da record ha accompagnato la terza ed ultima giornata della World Cup di ginnastica ritmica Pesaro 2019 sono state oltre 5.000 le persone che hanno assistito alle finali delle individualiste e delle squadre uno spettacolo unico trasmesso in diretta televisiva sulla 7 dalle 14.10 alle 18.10 riprese che hanno portato a Pesaro e la Vitrifrigo Arena nelle case di tantissimi italiani complessivamente nell'arco dei tre giorni sono stati quasi 8.000 gli spettatori accorsi all'astronave per assistere alle esibizioni delle farfalle azzurre e delle circa 180 ginnaste che hanno preso parte alla World Cup un'edizione che rafforza ulteriormente il legame tra Pesaro e la ginnastica ritmica internazionale a chiudere la manifestazione dopo la cerimonia di premiazione il galà di chiusura curato dalla società di ginnastica Aurora Fano a cui in occasione dei 150 anni della FICC hanno partecipato con le proprie coreografie anche i comitati regionali di Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Lombardia Puglia Toscana e Veneto colori musica e grandi esibizioni per concludere un'edizione della World Cup da incorniciare ma veniamo ai risultati di questa tappa per le squadre le farfalle azzurre hanno stregato il pubblico della Vitri Frigo Arena che le ha accolte in pedana con grande calore ed affetto in un tripudio di bandiere tricolore e core di incitamento e le farfalle hanno ricambiato l'affetto conquistando l'oro nella finale nell'esercizio con le cinque palle davanti a Russia e Giappone meno fortunate le farfalle nella finale con i cerchi e le clavette dove infatti si sono classificate quinte dietro a Giappone Israele Ucraina e Bulgaria che ha strappato la palma d'oro per quanto riguarda le individualiste le finali di specialità sono state un vero e proprio affare di famiglia con Dina Averina Russia prima nella finale al nastro e alle clavette mentre a Rina Averina si è aggiudicata anche loro alla palla e al cerchio ottima l'italiana Alexandra a Giurgi Ugulese che nell'esercizio delle clavette si è classificata seconda conquistando una preziosa medaglia d'argento bene anche Milena Baldassarri settima nella finale con il cerchio e quinta in quella con la palla e come ogni lunedì adesso diamo spazio anche allo sport locale quattro punti in due partite la classifica che si muove è il destino di una stagione che passa per il derby cosa che da queste parti non si vedeva da anni vispesa rofano di domenica prossima infatti rappresenta uno spartiacque decisivo per la stagione di Granate Biancorossi che a quattro giornate dal termine del campionato di Lega Pro si trovano distanziate in classifica di soli tre punti cosa impensabile fino a qualche mese fa una vittoria del fano al Benelli inguaglierebbe non poco la truppa di Nister Colucci che al contrario vincendo guadagnerebbe la salvezza e spedirebbe il fano con un piede e mezzo in serie D tornando all'alma la sfida di ieri in casa contro il Renate che faceva seguito alla vittoria per 2 a 0 contro la Fermana di mercoledì ha evidenziato ancora una volta la sterilità offensiva degli uomini di Brini che dal canto loro hanno però il merito di non subire riuscendo a portare a casa uno 0 a 0 che accorcia la classifica praticamente inoperosi due portieri fatto salvo per qualche conclusione velleitaria della distanza Alma che resta quindi ultima in classifica in compagnia del Rimini a meno 1 dallo stesso Renate e a meno 3 da Virtus Verona Gianna Erminio Albino Leffe e Vispesaro quella Vispesaro che domenica attende Sosa e compagni per un derby dalle mille mozioni dal quale inevitabilmente qualcuno uscirà con seri problemi di classifica non ha problemi di classifica invece l'età beta che dopo aver conquistato con largo anticipo la salvezza nel campionato di serie B di calcio a 5 lotta ora per guadagnarsi un posto nei playoff il primo match point per farlo però i ragazzi del presidente Serafini lo hanno fallito sabato perdendo per 6 a 2 lo scontro diretto contro il Città di Chieti una partita al limite del grottesco quella in terra abruzzese con i fanesi che recriminano per una condotta arbitrale discutibile con un referto che alla fine parla di due espulsioni sette ammunizioni e tre rigori contro per la formazione Granata di Russo e dello Juniores Montesi le reti di Etabeta che sabato prossimo in casa contro la già promossa Bulldog cercherà di riguadagnare la posizione perduta approfittando dello scontro diretto tra Città di Chieti e Cusancona che precedono i ragazzi di Mariotti rispettivamente di 3 e 2 lunghezze è un gran fanoregbi invece quello che ha tutte le intenzioni di mantenere la categoria e che ieri ha superato in casa per 24-15 il Faenza mettendo un importante mattone nella costruzione dell'edificio Salvezza al Falcone Borsellino nella gara valida per la settima giornata dei play-out di C1 i ragazzi di Walter Colaiacum e Franco Tonelli hanno dato una gran prova di carattere mettendo alle corde l'avversario con una prestazione autoritaria culminata con le mete di Michele Primavera Stefano Rossolini e la doppietta di Gabriele Breccia per festeggiare la permanenza in categoria servirà ora almeno una vittoria nelle ultime tre giornate a partire già da domenica prossima quando nell'impianto fanese arriverà la capolista macerata e dalla vittoria del fanoregbi passiamo a quelle delle bocce che arrivano addirittura da Loano in provincia di Savona dove nel weekend sono andati in scena i campionati italiani FIB-FISDIR riservati ad atleti con disabilità intellettiva relazionale la spedizione pesarese è tornata dalla Liguria con ben sei medaglie tre delle quali d'oro a mettersi al collo il metallo più prezioso è stato Mirko Montanari della metaorense di Colli al Metauro nella promozionale categoria nella quale ha poi concesso il bis in coppia con Adelpino Moretti nel singolo C21 invece il più forte di tutti si conferma Manuel De Marc di Highspot campione italiano per il quinto anno consecutivo che nel derby di finale ha superato l'astro nascente Lorenzo Bronzini di San Cristoforo lo stesso Bronzini il giorno prima era salito sul gradino più alto del podio nella coppia insieme ad un altro giovanissimo il fanese Jacopo Primavera nella stessa gara bronzo per Manuel De Marc e Manuel Anniballi alla manifestazione in ridata hanno partecipato circa 100 giocatori in rappresentanza di 16 società con i quali si è congratulato Giuno De Santis presidente della FIB che ha partecipato alle premiazioni e sono invece una sessantina circa i giocatori che a River Beach si stanno giocando il primo trofeo città di Pesaro campionato indoor a squadra di Beach Tennis organizzato dalla locale associazione sportiva e dal comitato provinciale CSI due le giornate ancora da giocare prima delle finali e dopo le sfide di ieri al comando ci sono i supereroi con 31 punti seguiti da Checche Pig a 26 e The River Team a 25 chiudiamo con le immagini che arrivano da Acqualagna dove la locale formazione di volley dopo un ruolino di marcia impressionante fatto di 17 vittorie in altrettanti incontri e 50 punti conquistati su 51 disponibili ha conquistato due sabati fa la matematica promozione in serie D la formazione del presidente Antonio Caffarelli allenata dal fanese Davide Di Tommaso vissa così il successo della squadra femminile che un anno fa centrò anch'essa la promozione dalla prima divisione alla serie D E questa era la pagina sportiva curata da Matteo Del Vecchio e adesso dopo la pubblicità andrà in onda in diretta la prima puntata di Occhio al Voto e per l'occasione allora andiamo a sentire le anteprime e soprattutto chi saranno gli ospiti dalla conduttrice del programma Simona Zonghetti Buonasera Simona Buonasera Marco qui è tutto pronto gli ospiti sono arrivati si tratta di personaggi politici che sono un po' sulla bocca di tutti se ne è parlato tantissimo in questi giorni vi anticipo che nel corso della puntata parleremo del caro bollette che ha fatto tanto arrabbiare gli utenti di ASET ma apriremo anche una finestra un collegamento dal consiglio comunale di Fano dove si sta discutendo proprio nell'aumento di queste tariffe si sta parlando anche di bilancio consuntivo 2018 ma io non svelerei tanto altro non mancheranno di certo le sorprese per cui vi aspetto in diretta a occhio al voto quindi gli ospiti non ce li dici? no li vedremo fra pochissimo dopo va bene allora l'informazione finisce qui domani mattina ci rivedremo alle 7.30 in diretta con Occhio e Giornali la rassegna stampa dopo l'edizione di mezzasera vi ricordo invece in esclusiva la partita di A2 con la Golden Plast la potenza Picena che ha vinto in casa a gara 1 per 3 a 0 buona serata e restate su Fano TV perché tra poco c'è occhio al voto arrivederci a gara 1 a gara 1 a gara 1 a gara 1 a gara a gara 1 Grazie a tutti.